Nuovo caso di violenza contro le donne si registra in Puglia. Ci troviamo nell'Eccese a Taurisano dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di stalking dopo aver sparato contro la macchina del figlio e il muro della casa dell'ex moglie. L'uomo di 41 anni era già noto alle forze dell'ordine perché ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, danneggiamento e stalking. L'azione violenta si è verificata nel tardo pomeriggio di giovedì 12 maggio quando l'uomo ha esploso con un fucile a canne mozze due colpi, il primo in direzione dell'autovettura in uso dal figlio, il secondo invece verso la finestra del primo piano dove vive l'ex moglie e i figli colpendo la facciata. Poi si è dileguato tra le vie vicine. I poliziotti sono riusciti subito a rintracciare l'uomo essendo stato protagonista di altri atteggiamenti persecutori nei confronti della propria famiglia. Trovato nei pressi di un circolo ricreativo è stato sottoposto a perquisizione. L'arma che ha utilizzato non è stata trovata, probabilmente è stata abbandonata durante la fuga. I successivi accertamenti degli investigatori hanno permesso di visionare i filmati di un circuito di videosorveglianza che hanno ripreso l'uomo durante il suo blitz. È solo l'ultimo episodio in ordine cronologico in cui l'uomo si è reso ancora una volta protagonista di condotte persecutorie e vessatorie nei confronti delle ex moglie e figli. Nonostante la separazione avvenuta circa due anni fa, l'uomo ha continuato a manifestare la propria violenta personalità tramite l'invio di messaggi vocali dal contenuto pesantemente minaccioso e offensivo non solo a quello della moglie ma anche a quello della sorella di quest'ultima. L'uomo è stato così arrestato.